Buongiorno a tutti ragazzi bentornati sul canale, siamo ancora qui nel nostro magico regno e siamo prontissimi per un nuovo episodio. Come avete visto nello scorso episodio ragazzi abbiamo iniziato il nuovo mini evento di app che ci porterà la bellezza di tre personaggi, nel nostro caso al massimo due considerando che Kevin è a pagamento, nel nostro regno. Allora innanzitutto abbiamo tre baulozzi, abbiamo il baulozzo giornaliero e in più delle missioni completate della stagione, oltre che i carrozzoni. Quindi io direi di iniziare ad riscuotere qui i nostri personaggi che sono stati mandati a casa e vedere subito che cosa ci danno. Qui raccogliamo poi i carrozzoni che ci danno magia, ok una maledetta pubblicità subito, no grazie, e ancora magia, ok. Dopodiché il nostro principosso ha un bel cappello di Elizabeth Swann, mandiamo subito i carrozzoni in uscita e abbiamo gli incredibili. Abbiamo 60 gemme quindi dopo compreremo un bello scrigno degli incredibili come vedete qui, però lo faremo dopo aver completato insomma tutto ciò che abbiamo ancora da raccogliere. Qui abbiamo il primo baulozzo, vediamo che cosa ci dà, ci dà un progetto non comune, due simboli della pianta e 500 magia. Ok, cerchiamo gli altri due, allora vediamo che cosa ci danno, speriamo qualcosa di buono e utile soprattutto, ecco quel secondo. Il secondo ci dà due cimeli di arice, una spada laser e due lingotti di desidero. Ok, decisamente meglio questo qui, vediamo l'ultimo, ecco l'ultimo è inutile al 100%, una panchina di San Fransò che vabbè non lo sapevamo già che nelle nostre puntate esce sempre uno scritto in decorazione. Allora abbiamo due cimeli di pinocchio, un peluche di fulmine che sarà per il nostro cucciolotto della carica di 101 e due polvere di fata. Ok, andiamo a vedere il bronzo che ci dà due gettoni saltatempo, fantastico e soprattutto molto utili. Qui abbiamo quattro lingotti da riscuotere come premio per la stagione, abbiamo già completato la missione dei due, insomma vediamo un po' dei due, no che cavolo dico, dei dieci scrigni. Stavo già leggendo converti due oggetti e ho fatto un po' di confusione, no dei dieci scrigni. E il prossimo premio sarà 5 gemme, quindi abbastanza utile come premio. Andiamo adesso a riscuotere finalmente le nostre missioni, i nostri personaggi. Ah, perfetto come sempre. Lo so perché tutti gli uccellini che erano qui sono volati via, persino loro sono invidiosi di me. Sono così contenta che Genoveffa non sia qui a intralciarmi per qualche ridicola ragione e crede che io sia stonata. Ridicola ragione, eh? Un gioco per due, cento magia e cinque esperienza. Non mi importa cosa dice, credo che incastrare le dita nei fori faccia suonare meglio. Boh, io non sono propriamente d'accordo su questa cosa, non lo so, secondo me non è proprio così. Comunque andiamo avanti, qui abbiamo Siberius, zio Siberius che ha completato un'altra missione. Ecco cosa intendo, la produzione mi ha appena mandato il filmato e è venuto proprio bene. Ci sarà parecchia gente che berrà più acqua con un simile modello da seguire. Pubblicità Polare, anche qui cento magia e cinque esperienza. Forse dovrei dedicarmi a fare conferenze come motivatore. E può darsi, può darsi, non lo escluderei. Comunque, qui abbiamo portato a compimento le due missioni che avevamo. Infatti, vedete, adesso ne abbiamo soltanto due. Andiamo alla raccolta pazza di tutto ciò che le nostre attrazioni, i nostri personaggi hanno da offrirci. Abbiamo un'altra spilletta, mi sa che ce ne manca solamente una. E potremo accogliere Russell. E mi sa che ce l'abbiamo tutte. Infatti, ecco, Russell è pronto per essere accolto. Ragazzi, adesso scappando dobbiamo andare ad accoglierlo. Anzi, sapete che vi dico? Lo facciamo proprio subito. Anche se so già che ci uscirà una pubblicità. Ah, subito, ok, sei secondi. Fantastico, signor Freddickson. Sarà in casa perché ho bussato più volte. Sembrerebbe di no. Arriva un esploratore. 50 moneta evento. Che sono spill, penso. Non lo so. Comunque moneta evento, chiamiamolo così. E 5. Esperienza. Forse abbassato il volume dell'apparecchio acustico. Dovrei provare a chiedere più forte. Per sicurezza. Eh, guarda, io non te lo consiglierei, Russell, perché secondo me non ti conviene, conoscendo il personaggio, insomma, il signor Carl Freddickson, che è abbastanza un vecchiardo pazzesco e soprattutto abbastanza suscettibile e irritabile. Continuiamo a raccogliere. Vediamo un attimino che cos'altro ci arriva. Qui abbiamo i nostri fidanzatini che ballano. Siamo giunti in una zona che praticamente ci dà solo magia. Anche se dovrebbe mancare, mi sa, un solo cappello a Pietro. E avremo anche per lui tutto quanto necessario per accoglierlo nel regno. Vediamo qui che cos'altro ci arriva. Il nostro tigro è al completo, sotto il punto di vista dei libri, un altro cappello di Elizabeth. Ottimo, ottimo. Qui cosa ci arriva? Un po' di simboli della pianta. Andiamo a vedere che altra missione abbiamo completato. La magia 20 volte. E che altro abbiamo? Un personaggio di app che ci dà 600 punti felicità, ragazzi. 600 sono tantissimi. Infatti riempiamo addirittura due slot di ricompense. Quindi abbiamo 5 gemme e un vaule decorazione. Vediamo un po'. Buche incantevoli. È abbastanza inutile, è abbastanza inutile, ragazzi. Andiamo avanti qui. Vediamo che cosa ci capita. Un attimino. Vabbè, nella zona di Star Wars, bene o male, ragazzi. Sappiamo già che avremo solo esperienza. Qui un altro cappello di Will che ci permette di portarlo a livello 5. Attenzione, ragazzi. Perché finalmente andremo avanti nella missione Una vita da pirata per me, a parte 3, che ci richiedeva da un po' di episodi. Will a livello 5. Andiamo ad ascoltare le nostre missioni e da un po' che prova e non risponde. Quindi o ha proprio spento il suo apparecchio acustico oppure ha portato Doug a fare una passeggiata. Probabilmente la seconda. Lo spetterò nel giardino suo retro finché non torna. Ha detto che posso farlo se voglio. Basta che non calpesti le sue azalee. Non lo farei mai, comunque. Un esplodatore della natura e amico di tutte le azalee. Bravissimo Russell, sei fantastico. Mandalo ad aspettare signor Fredrickson, lo facciamo perché tanto va bene così. Prima regola per essere un super, bisogna mantenere una buona immagine pubblica. Se ogni tanto non ti metti in posa per i fan, come fanno a sapere chi chiamare in caso di emergenza? Non possono saperlo. Non voglio vivere in un mondo dove il mio potere serve solo ad aggiustare la mia aria condizionata. Sì, in effetti ci sta. Dai, vai a farti la tua bella posa. Sentiamo Anastasia cosa vuole. Ora devo solo trovare... Aspetta, Genoveffa? Ma che ci fai tu qui? Io? Che ci fai tu qui? Pensavo di aver dato al tuo cocchiere le indicazioni sbagliate. Io pensavo di aver detto al postino di non consegnare la tua lettera a Cenerentola, finito dall'inizio. Allora, perché tu? Hai rubato la mia lettera? Oh, tu piccola stupida, ridammela così potrò mostrare a Cenerentola quanto sono carina con lei. Rivalità fra sorelle. Queste due sono pazze da legare, ragazzi. Sono proprio matte. Allora, io direi che per questo episodio possa essere tutto. Andiamo un attimino a vedere Russell. Cosa ci chiede per il livello 2? Ci chiede una bandierina degli esploratori e abbiamo i personaggi per farlo. Ottimo. Mentre per il cappello ci chiede... Anche qui abbiamo i personaggi. Ci chiede però un'ora per Kevin che non abbiamo purtroppo. E altre 5 spillette. Quindi almeno per le spillette dovremo attendere. Ma comunque per fortuna abbiamo i personaggi per potenziarlo. E dunque ragazzi, il personaggio degli incredibili lo prendiamo nel prossimo episodio. Andremo avanti anche con la storia e sperando di aver sbloccato nel frattempo anche Pietro. Io vi ringrazio per aver visto questo episodio in mio compagnia. Ci vediamo nel prossimo video. E auguro a tutti quanti voi una buonissima serata. Ciao a tutti ragazzi.